guarda se spazzo la voce che è stato sbagliato, tutto un po' la po' la po' lissa Marine, vanno a parlare tutto con te, Marine buongioragano, fa tutti i complimenti ai tuoi allievi ma cosa sei? allora ricordami una cosa, quando una maestra ti deve individuare l'allievo è super il maestro allora è assolto il tuo cuore e hai perso il cuore? no 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 non è così comunque abba i pescini, gli troviosporfese pure tu guardi luce materialista al mare quando una persona ti dici si prendi una pelle scotta e ti hai fatto una cotta avrai tonipipoporo ma quanti tu, nessuno del tuo allievo dico da te vuol dire che ancora devi fatza ecco! se nessuno delle tue alliere uno dei miei allievi non supererà te no 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 quando si sentirei quando qualcuno ti sentirei quando qualcuno ti sentirei e allora se hai capito indietro di vetrica lorenza devi entrare un insegnante se nessuno supera la maestra vuol dire che non hai fatto bene il tuo compito di maestra e allora ma questo è il livello di si vede che è ancora un problema tuo e non lo so tu sei la maestra